Ciao a tutti amici sono sempre Cliffwood007 Sino allora che è anticuvlete E oggi sono qua per registrare la quattordicesima recensione del nostro canale Questa volta dedicata A un film del 1990 di Kevin Costner Ovvero Balla coi lupi Sigla Volevo ringraziare tutti voi perché avete proposto voi questa recensione Sotto i commenti del video dedicato a Climax uscito qualche settimana fa Allora iniziamo a parlare di Balla coi lupi Ripartendo dalla trama C'è questo diciamo quest'uomo che si chiama John Dunbar Che alla fine della guerra di secessione diviene a suo malgrado un eroe di guerra E gli viene conferito questo cavallo molto molto importante E gli viene detto che può andare a vivere dove vuole Lui come territorio sceglie un posto molto vicino a dove vivono gli Siu Gli indiani americani E inizia a confrontarsi appunto con gli indiani Si innamorerà di Alzata con pugno Poi insomma diverrà parte integrante proprio della tribù di Siu Intanto riporta in auge il genere western che era diciamo decaduto da un sacco di tempo Da una ventina d'anni Insieme agli spietati che forse è un po' più bello di Clint Eastwood Infatti sono fra i migliori western moderni questi due film qua Siamo davanti a un grandissimo film Che propone appunto la tematica del razzismo In una maniera molto diversa dal solito Diciamo che Avatar per esempio Avatar di James Cameron ha preso molto da Ballaco in Lupi Ovviamente Avatar è fatto in versione fantascientifica Però diciamo che Ballaco in Lupi era molto avanzato per l'epoca Intanto ha un'ottima regia Uno di quei film da vedere su uno schermo grosso 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 Perché ha delle immagini ogni tanto veramente potenti Davvero belle dal punto di vista panoramico Lo scenario western è il protagonista del film Kevin Costner è molto bravo sia alla regia che alla recitazione E anche la scrittura regge molto bene Nonostante sia effettivamente troppo lungo Molto bello è come film veramente troppo lungo Quattro ore di film è abbastanza Però diciamo che il film ovviamente si guarda e va guardato Perché è appunto un classico Non è propriamente noioso Però diciamo che è film troppo dilattato Io l'ho visto in versione stesa E mi è risultato un po' lungo effettivamente Perché quattro ore di film concentrate su questa vicenda Diciamo che sono eccessive Tutti gli elementi sono a posto in questo film Appare la tematica degli indiani Della cultura millenaria degli indiani Che viene praticamente distrutta Dalle popolazioni occidentali Insomma era molto appunto avanzato per l'epoca E infatti è un bel film Dalla fotografia è una colonna sonora strepitosa Sette oscar vinti Aveva fatto razzia quell'anno Veramente davvero molto molto bello E consigliato a chi ama i cavalli America, i western Chi ama per esempio la vita da cowboy Queste cose qua molto molto belle Perché anche a me piacciono molto Quindi siamo davanti a un grandissimo film Un ottimo film Forse uno dei più belli degli anni 90 Forse un po' zardata come definizione Comunque davvero ottimo lavoro E soprattutto interessante Per l'avanzata presentazione Della tematica del razzismo Che fino ad allora non era stata mai fatta Davvero consigliato e da vedere Nonostante le quattro ore di durata Che ogni tanto possono annoiare lo spettatore E poi la quattro ore di durata